Continueremo a batterci in ogni modo contro gli aumenti della tassa sui rifiuti che colpiscono in maniera gravissima e ingiustificata le famiglie e le imprese. È all'indomani dell'incontro con i dirigenti di Ato Toscana Sud e Consei Toscana che arriva la nota congiunta di tutte le associazioni di categoria della provincia. Conf Commercio, Conf Esercenti, CNA, Conf Artigianato, Conf Industria, Conf Api, Col Diretti, CIA, Conf Agricoltura, Lega Coop Toscana e Conf Cooperative. Gli aumenti ci saranno di sicuro, affermano le associazioni, questa è l'unica cosa che è emersa chiaramente dall'incontro. Ed è inutile che per il momento l'Assemblea del Lato, di cui peraltro fanno parte tutti i comuni delle tre province interessate, abbia deciso di congelare quel più 12,2% che era nell'aria. I rifiuti diminuiscono eppure i costi aumentano, questo perché è stata messa a bando solo la gestione del servizio, di raccolta e non quella degli impianti. Inutile il gioco dello scaricabarile sono i sindaci prime ad avere voce in capitolo in quanto presenti nell'Assemblea di Ato Toscana Sud e nel 90% dei casi anche nell'interno di Sei Toscana come proprietari dei singoli gestori. Ed infine l'appello al Comune Capoluogo, quello di Arezzo, a dare il buon esempio bloccando ogni forma di aumento, perché il peso delle tariffe e delle tasse non è più sopportabile dalle aziende e prima o poi sarà la politica a dover rispondere della perdita di occupazione.